Ho deciso di adottare Easy Vela perché mi dà una possibilità di sfruttare maggiormente lo spazio disponibile. Prima dove parcheggiavo quattro vespe, adesso ne riesco a parcheggiare anche sei. L'utilizzo di Easy Vela è semplicissimo, pratico e sicuro. Una volta bloccate le ruote è veramente un gioco da bambini posizionarla su questo accessorio. Ho contribuito con la realizzazione di Easy Vela e avendo la possibilità di risolvere alcuni problemi ho chiesto di fare un supporto per posizionare una bacinella che può essere una bacinella qualsiasi, in modo da evitare di sporcare il pavimento e sporcare l'Easy Vela stesso. È molto più pratico tenere anche l'ambiente pulito, è facile spostarle in sicurezza e anche con meno fatica. Consiglierei l'acquisto di questo accessorio a tutti gli utilizzatori di scooter. Anche chi non ha 100 vespe come me e semplicemente ne ha una o due in un box di casa può trovare comodità utilizzando questo accessorio.